ancora qui non ci hanno sparato ma che è qui l'occhio vuole la sua parte anche qui il ponfo ma si va avanti e si combatte qui è come richard materson 3 mm al giorno il protagonista si riduceva di pochi millimetri al giorno 3 mm al giorno noi stiamo a perdere le cellule cerebrali piano piano ci stiamo regredendo perché una stacchezza incredibile roberto ha mantenuto i suoi ritmi la sua tradizione popop 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 Quando si va con le pressioni così devi devi fare 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 pure oggi è stata una giornata abbastanza come dire impegnativa si mochia una settimana alla fine sessifiche ne mezzo e dobbiamo vedere il più possibile anche quel che ci siamo comprati questo benedetto pass è chiamato passedo solitario in Start Bene che stiamo comunque un albergo che sta fuori ma nottano quindi anche a fare avanti e indietro dell'albergo non è sì quindi una volta che si esce non si torna più ciò detto la nostra quindi sappiate questa cosa se roberta un giorno vi fa oh ma perché ci facciamo un viaggio insieme valutatela questa situazione perché avete tanti video magari roberta è quella là dei video mamma che lascia perdere fa guarda roberta no c'ho da fare devo andare a osti al mare ma inverno è uguale c'ho da fare avete tanti video per valutare questa cosa e tra l'altro io ogni video in america mi rovino non so perché c'è un vento gelido si comportati perché non piove c'è il sole ma c'è un vento gelido direttamente dalla stessa che mi ha ucciso le labbra quindi noi stiamo affrontando il nostro moda di andare con i vestiti a cipolla non ci siamo scomposti però devo dire che la temperatura è scesa rispetto al giorno che stavo maniche colta la temperatura è scesa notevolmente poi comunque loro continuano andare in giro c'è il sole perché comunque siamo fortunati perché le giornate sono belle alla fine c'è sole e ci sarà sole fino a quando andremo via quindi questo è una cosa positiva per noi la cosa bella è che questi continuano a andare in giro indefessi in pantaloncini ci stanno meno 160 gradi che siamo noi per giudicare la nostra mattina soleggiata e ventosa è iniziata con l'empire state building grattacielo che si può visitare andando sia l'ottantesimo piano che l'ottantaseisimo piano e poi con un biglietto aggiuntivo anche al cento duesimo piano cioè sul cupolino sull'antenna ora è il grattacielo più alto in new york no il grattacielo più alto in new york è quello che siamo stati ieri one world observatory è notato però è pur sempre nel paese building e come tutti i cinefili ricorderanno è teatro di sbagliati film e comunque sullo sfondo di sbagliati film primo tra tutti king kong questa liva sul grattacielo di new york che qualche cong che a noi ci fa adoriamo e quello proprio a passo uno quello che a certo punto sta così ha preso un aeroplano dal nulla proprio aeroplanini te carta quello a passo 1 che ci ha tanto appassionato nella vita insomma quindi ci siamo ci siamo andati comunque bisogna essere stati sull'emprester building che è un suo fascino molto particolare insomma è stato costruito dall'altro durante la grande depressione quindi è un grattacielo che risale al 29 credo sia stato ultimato nel 30 nel 31 insomma costruito in 410 giorni rapidissimamente ed è stato fino a un tot il piotto di new york io che dico dico che da vedere anche se poi comunque ci siamo detti sia quello che ha citato poco anzi quello più alto lì sotto il memoriale l'altro che abbiamo visto con di edge e questo qui io per primo in assoluto comunque metto metto quello al memoriale sia per posizione sia per tecnologia ma sia per tutto è un altro passo perché c'è una struttura assolutamente inedita e bellissima e metto poi questo quale in paere chiaramente per tanti motivi e poi l'ultimo del genere bello da vedere ma insomma devo dire che questo qui si fa rispettare la cosa bella e mi è piaciuta secondo me è interessante fare questa parte per il nome per il nome rumoroso altisonante che c'è perché questa è la storia dell'america come ce la ricordiamo noi quando non eravamo nati cosa vedevamo sempre vedevamo sempre sta gente col baschetto o i giornali vendano i giornali le macchine antiche il fumetto che usciva il fumo dalla città c'erano questi qui che costruivano quindi sti building ricostruivano e come ricostruivano che c'era la classica sbranga di metallo la trave di metallo tenuta da altre travi di metallo e c'erano questi qui che lavoravano sopra no c'è quindi c'è quella concezione proprio quasi dell'epoca del carbone per dire ed è interessante perché è questo tipo di struttura deriva da quel periodo storico e quindi è tutto così è tutto così perché quando uno va là dentro ci sono il personale che è tutto vestito in uniforme sono tutti carini c'è c'è tutta un enfasi quando si intende al palazzo e poi la cosa carina vabbè noi non è che ci interessa tanto però quando siamo entrati c'è una sorta anche di intrattenimento quindi è una sorta e questo proprio american style dove comunque c'è cresoccio a un certo punto ci sono tre ascensori aperte in realtà sono finte uno interessante i rumori di come era prima c'è tutta sta roba che americani piace tantissimo e quindi ci sono tutti questi effetti c'è tutta una parte di intrattenimento è come una sorta proprio dei parco giochi dove uno c'è uno segrete che avendo fatto noi quelli precedentemente uno prende due minuti e poi sale e poi niente finito questo intrattenimento poi piano piano si sale fanno la fotografia c'è stanno sempre i cerini la i cerini quelli gli abusivi gli abusivi delle foto che potevano che poi vedere noi sono del posto probabilmente noi la nostra passione per i cerini termine utilizzato per quelli che si intromettono nei matrimoni e te fanno una foto e tu devi da 5 euro perché ha deciso lui quindi è detto questo poi si sale e c'è anche lì vi ricordate gli ascensori tutte quelle virtuali in questo caso c'è il tetto solamente che anche lui vi intrattiene mentre si sale la vista è bella perché è bella perché il questo tipo di struttura è localizzata quasi al centro del dove lì praticamente si vede un po tutto e poi ma anche qui distante pure dal parco esatto esatto quindi si vede è una posizione diversa se ci avete visitato gli altri è bella e poi chiaramente come ha detto roberto una c'è il discorso dell'immaginario dei king kong e tant'è che sotto lo shop c'erano 6.000 king kong io che ho fatto è uno piccolino che è quindi souvenir come dicevo sempre questa città è un souvenir vivente farà ovviamente si collocherà tra la statuetta di maradona e il di predator e il secchio del con molta probabilità c'era uno bellissimo che era enorme però 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 sì però era il mio sguardo vigile non ha assolutamente la questione proprio che era troppo per e quindi insomma un pensierino una cosa invece un pensierino ce lo io nel senso che in cima l'empire state building sul terrazzo che poi una cosa bella che si può anche dare fuori come si può vedere alle vetrate ma si può anche girare a 360 gradi su un camminamento esteriore che oggi faceva obiettivamente un po freschino e oltre a vedere il paesaggio più gli strati confinanti con quello di new york se uno li sa riconoscere si vede nella giornata soleggiata ci sono i binocoli che andava una monetina ci sono i binocoli in cui si può vedere diciamo più ravvicinatamente e oggi l'ho assistito all'apoteosi della mia rubrica chiamami quando te la rivedi perché c'era una signora che pretendeva di fare la foto attraverso il croco cioè diremmo non so se te rendete conto di ci ma ha sbagliato il binocolo quel binocolone e col cellulare voleva fare la foto ingrandite è una cosa senza se ha sbagliato e ha sbagliato tutto ma oggi questa è stata solo la la punta dell'iceberg è quello che oggi è stata l'abuso di cellulari che poi io vorrei fare un punto anche su questa cosa ok ci ho detto noi discesi dall'empire building siamo andati alla proseguire la nostra giornata di cultura e siamo andati al guggenem al museo e poi siamo andati al moma quindi due legnate legnate notevoli il guggenem più piccolino ovviamente aveva anche una parte chiusa quella della spirale che non so se contenesse delle opere d'arte secondo me camminando vedendo anche dei video e vedendo anche delle foto lì mentre uno cammina sulla spirale c'è qualcosa attaccato in base alla mostra che mostrano in quel momento ma insomma prescindibile se non funziona la prima di piastra il buco e nemmeno però fare un ricordo di questa giornata il signore il commesso diciamo del negozio delle imprese ed building e quando ci ha visto e dove si venite metto all'italia la tabella torino forza juve ok questo era un colosso di colore gigante io subito un po però forse anche no e parlava l'italiano per aiutare i turisti non è mai stato in italia no ma poi il bello fa torino torino perché torino sono è juve torino a figo insomma torino bello se sta a torino no a lei ho fatto scusa la di roma cioè motorino perché di bari gli piaceva comunque molto carino lui proprio molto molto caratteristico era forte insomma ritorniamo il guggenem contiene appunto non ha piccoli e piccolino collezione non è enorme però ci sono dei quadri di nomi artisonanti ora personalmente io non sono un esperto di storia di arte moderna e quindi alcune opere storie chiaramente renouard sazanne picasso manemone insomma sono nomi che si conoscono esperienza però insomma vedersi un quadro di un pittore famoso dal vivo fa sempre effetto e poi c'è il piano con l'arte proprio moderna quelle installazioni eccetera che purtroppo devi avere un pochino che te le spiega per cercare di entrare in quello che è l'idea dell'artista possiamo discutere anni e anni tutti dicendo cos'è un'opera d'arte è una cosa filosofia che possiamo stare qua a disquisire perché molte sembra vabbè quella poteva pure io anche no proprio che non è la gratta le ascelle a lamentate tutta la vita nel frattempo quelli monetizzava non è disegno nel senso che uno dice per esempio al momo abbiamo visto la tela quella tagliata di fontana c'è la tela da pittore da cominciare a dire che che ce l'ho è che ce l'ho è però evidentemente c'è tutto un concetto filosofico di un'opera d'arte che porta a dire quella un'opera d'arte adesso faccio io una cosa del genere no però abbiamo anche la c'era un signore molto gentile opera d'arte a sua volta che era forte era tutto enorme muscoloso nero afro pure lui bello ma fra me appassionatissimo dello staff ovviamente esatto che ti spiegano un pochino dell'opera d'arte che erano su quel piano noi un pochino come il domino con la moneta in un certo punto abbiamo visto che spiegava spontaneamente tutti noi ci siamo permessi poi bello io sono fatto mister dell'as l'ultima cosa che ti chiedo in realtà questo partire mi guarda poi facendo capito io capivo un cazzo perché di fondo non ho capito zero perché voglio fare felice io faccio quando faceva felice ero felice pure io ma non capivo per obertano che ha detto vabbè comunque qualcosina per secondo me alcune cose però perché anche le cose di arte notte hanno questa caratteristica anche quando ti spiegano sembra che ti fanno una supercazzola cioè ti dicono ah perché questa è la flessibilità dell'animo umano che si usa dentro la forma cioè vedi tipo un lecca lecca no perché questa è l'espansione dell'unietto e tu dici no nel senso è vero però c'era uno quello carino che c'erano tutti i sacchi di carbone e poi c'era una sorta di monolite che sembrava una sorta sempre di carbone fatto con quel materiale e lui spiegava un po' che quello erano tutti gli elementi del mondo spersi tutte le capacità dell'uomo del tutto quella e poi la coesione di questi carboni creava questa sorta di monolite titanico per la civilizzazione alcune cose erano interessanti però poi però c'erano pure attaccate al muro dei jeans con le ginocchia tagliate invece con le toppe con il gioco tagliate la voglia a teorizzare magari pure quello che diceva si diceva che c'è un'idea di fondo però questo vuol dire che mai dirà che merda perché non è così io posso dire la mia per quanto riguarda intanto l'arte e assolutamente io non ci azzecco niente non so nulla quindi assolutamente come dice sempre il nostro amatissimo nico io ste cose di cultura a robe che poi so io che so fabbio ma questa storia vecchia a robe io ste cose di cultura vabbè nico ho capito quindi queste queste cose di cultura anche sono per pochi ma non per tutti come diceva sempre nico il fatto è questo quasi è vero e ci sono delle cose che magari te le spiegano e sono bellissime ma anche altre che te le spiegano ugualmente non arrivano perché è giusto così l'arte è pure questo però insomma lungi da noi metterci qua e dire tanto quello che dico io perché una cosa importante qui capisco anche faccio una citazione al grande sor furio che intanto sto video non vedrà mai che diceva e fabio dove tra quando devi di il moma poi balli il google e nemmena sola tutto quanto allora io dico una cosa da profano ma anche comunque da curioso devo dire che effettivamente poi parliamo del moma se tu vai al moma e poi dopo vai al google name e sei un abbassa alla se sei un appassionato se sei un appassionato di di questa roba e non te basta penso una settimana per vedere tutto quanto c'è che ti metti le nevi di uno per uno ricordo con marcone fratello di robertona stavamo agli ufficio mi ricordo che un certo punto nel secondo piano saranno tipo intrippati con lo chiamo chiaramente era tipo la pittura debito giudice c'erano questi costi spalloni e sempre le capocce sempre più piccole di un marco saranno intrippati a ride perché diciamo questi sempre più piccoli nella nostra crassissima ignoranza però ridevamo quindi ci siamo fatti tutti gli uffizi siamo riscesi e tutte e due ci siamo guardati mentre stanno sghignando come pochi su alcuni che erano veramente terribili come quadri e secondo noi e c'erano due persone che quando siamo entrati siamo stati un paio d'ore c'erano persone che stanno al quarto quadro quindi indubbiamente è vero 11 secondo me se sa quello che vede ed è interessato vive una vertigine soprattutto per quello che abbiamo visto quindi io dico una cosa se proprio dovete ovviamente vi dico se state qui e dovete decide non so quanto costano perché noi siamo sempre quella con l'abbonamento e tutti quanti ovviamente la moma tutta la vita ve lo dico però se siete appassionati vale tutte e due questa prima cosa anche perché poi altri amici come avevo detto nei video precedenti tutti sono andati in america meno io e lei però io dico sempre una cosa storica dei viaggi che dicono figo ma io sono stato quasi ho stato la potete cominciare a dire queste persone ho chiesto ad alcuni oh ma ci sei stato lì no perché sono andato da qua oh ma ci sei stato l'anno perché sono andata a filaterfia no ma tu questo l'hai visto no perché mi stava a lasciare la scarpa anche io oggi mi so guardare l'ho fatto a questi mi vedono un cazzo e vengono a new york cioè nel senso ma che vuol dire quindi questo è un altro mito da sfada si viaggiate rega ma viaggiate male non è che uno deve venire come noi che abbiamo perso proprio i connotati ho capito però ci sono delle cose come vieni qua non te vedi il memoriale rivaltano a casa credo non mi vuoi di no perché io sono musulmano è proprio una questione che lo devi fare punto ci sono delle cose che può fare alcune cose no cioè viene a roma no il circolo se ho visto che sfuggita poi magari è il colosseo quello piccolo che sta lì al teatro e micro quello piccolino dice il colosseo ambiti è però era piccolo poi si sono sbagliati completamente quindi lo fanno comunque stavo dicendo una cosa quindi sì c'è questo effettivamente questo questa cosa mi ha detto furio in una maniera comunque magari feroce ha detto tra andavete ovviamente non ci siamo andati allora il google name è bello perché comunque il posto fuori la location fuori è bellissima tipo una roba sempre roma paragonato una sorta di quasi semi varioli a ventino roba proprio bella un posto bellissimo pieno di arti si respira proprio i soldi dell'arte il il posto la struttura perché poi non sta il google nemmeno sta solamente lì ma sta un po da tutte le pace stanno altre varie location è da vedere poi chiaramente quando uno va sopra che vede i quadri si il picasso è come ha detto roberta io non ci capisco una mazza però di fondo vado là ma vicino me dico mamma mia un picasso cioè non è uno io che mi metto a disegnare poi quindi il google name si se sei un grande mi se devi scegliere cioè se devi te li vedi tutte e due se devi sceglie no proprio no google name no e ultima cosa poi passo a roberta la mano sul moma che ci abbiamo da dire ovviamente google name io in realtà faride perché io il google e me l'ho sempre sentito l'ho sempre sentito a me mi è entrato in testa al google perché io mi sono letto il mugenheim che alla fine è il libro di giampiero mughini che uno dice no però mughini ancora ci sta mughini come la vedete è uguale io mi sono trovato tra le mani questo libro io l'ho trovato veramente piacevole perché è il mugenheim cioè io non so chi gli interessa però mughini in realtà nella vita a fa è un collezionista di quelli proprio incredibili quindi durante il libro lui racconta pure che ha preso no le sole però diciamo mughini sta comprata moglie la pezza totale quindi lo ha comprato dei pezzi per concludere le sue collezioni e ha pagato tantissimo ma lui io parlo proprio di rock ma pure gruppi rock importanti che adesso non vi sto dicendo letteratura letteratura fumetti mughini sa tutto e quello che mi ha colpito di questo libro in realtà che casa sua è tipo il google name però e mughini messa a casa sua quindi luce a tutte opere d'arte fontana tutta sta gente c'ha tutte opere d'arte originali ed è una casa museo e è divertente perché lui ti racconta durante il libro a parte racconta gli aneddoti ma poi a mio parere io tramite lui mi sono comprato comunque un altro libro che mi leggerò perché non mandava adesso però io me lo leggerò perché comunque parlava di arte moderna di questi artisti italiani minori e io ho trovato come l'ha descritto talmente figo ho preso e me lo so comprato quindi il mugenheim è un particolare dati di enocchio presente moma no ma chiaramente più grande variate collezioni molto estese ed è organizzato per per periodi quindi dall'ultimo piano si vanno delle opere più antiche che hanno poi man mano quelle moderne piani terra e chiaramente anche la abbiamo il cielo stellato di van gogh abbiamo picasso abbiamo un sacco di mondia miro frida galo magritte e io sto citando i nomi che conosco io andy warrol e sto citando i nomi che io conosco magari ce ne sono altri molto più insomma che chi è esperto di quest'arte trova affascinanti e interessante all'interno del nome chiaramente poi ci sono c'è stato champ c'è appunto la fontana modigliani matis matis cioè c'è praticamente una quantità inenarrabile più al piano terra c'è la ci stanno i water lily sti che amone se non sbaglio insomma con questo sto dicendo una cacchiata magari mi autocensuro è la l'assurato stasera purtroppo può raccontare i video con la bottiglia e quindi a piano termine sono le opere più moderne quelle che appunto dice che può dire questa opera creato abbiamo preso anche la guida cioè la guida gratuita e anche quando te la spiegano non capisci cosa stanno dicendo un altro un altro roce un altro fenomeno che mi sento di rimarcare sono le persone che fotografano i quadri io lo trovo inaccettabile anche se voi che mi state ascoltando siete i miei amici lo fate sappiate che lo trovo inaccettabile perché non capisco per qual è la ragione di non guardare un quadro con gli occhi c'è internet è pieno di foto e di immagini ma pure fatte mai pure fatte meglio non so perché ti pensi che la foto fosse ma perché sempre l'immortalare è sempre il souvenir fotografia una cosa che è già c'è invece di guardarla con gli occhi che il bello è che tu stai vedendo il antico il quadro di van gogh c'è gente che è andata ha sgomitato per andare davanti al quadro di van gogh e l'ha fotografato ed è andata via quindi manco dice io lo guardo poi mi faccio il ricordino e me ne vado ma ha fotografato e se ne è andata via e la peggiore di tutti è una signora che con grand'angolo grand'angolo cercava di prendere poter lillis cioè che è un quadro che è lungo 15 metri in questa con grand'angolo aiutata dal marito cercava di pigliare col cellulare invece di sedesse e guardare il caccio di quadro si era fatto una cosa del genere quindi sappiate una cosa che penso che è meglio io e marcone che ritevamo sulle capocce piccole che fa le cose qualificabili beh però ritevamo sull'arte della capoccia piccola una volta è stato rivoluzionare la creazione di musei perché era mettere a disposizione l'arte di tutto e del pubblico quindi anche di chiunque volesse volesse usufruire volesse vearsi delle opere d'arte una cosa democratica assolutamente salutata in maniera rivoluzionaria credo a suo tempo siamo arrivati al paradosso in cui tu metti a disposizione le persone opere d'arte e le persone ne fruiscono come se fossero su internet su google quindi a questo punto sappiate che il giorno in cui io prenderò il potere chiuderò il musei o metterò il biglietto c'è una cifra talmente alta che si deve venire soltanto se ti interessa margheria andamo ma che sia matto costa mille milioni mi chiederò torneranno a essere con lezioni private che se tu c'è nel salotto e capite l'amico tuo ciamone nel salotto lo vedi se non lo vedi se c'è i mughini per amico dove giusto che tu vada perché se ne fruisci come se fossi su google è giusto che tu rimani su google la vede al cerchimone sulla tassia chiudo questo archivio questo momento per dire che dopo il moma aspetta come mai passa sempre a me ha deciso lei non voglio dirmo ma importa allora sei solo seduto al bagno quattro volte stanchissimo però allora moma e tappa fondamentale ok moma acronimo per ovviamente quindi arte moderna e dico interpellato qualche amico mi ha detto no al moma non ci ho avuto tempo no rega non è possibile allora io dico una cosa anche in questo caso molto più del google ma che è una roba veramente molto mirata e moma è una roba a parte proprio come come strutturato solo la struttura vale 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 entrare vale il biglietto tutto curatissimo bello enorme pulito organizzato in maniera esemplare bellissimo poi ci sono delle cose nei vari piani c'è la parte l'ultimo piano insomma il popolo ve lo dice proprio la guida dice i fondamentali quelli che proprio non poi uscita qua se non ti sei vissi e penso che ti danno tipo 30 pergate sul culo se non sei andato sopra pure se stai male dicono mettetelo lì fate lo vede con la lettica fa l'ho visto con l'ossigeno e ti portano via perché una cosa sopra i fondamentali quello che ha detto roberta io dico solo una cosa e vabbè non è che so poco all'asciutto all'asciutto alcune cose mi erano piaciute quando ero più giovane per esempio ecco la pop art insomma andy war ma sempre affascinato non ce so poi c'era pure l'instein come si chiama quello con i puntini c'è un miliardo di cose da vedere ma non è tanto quello è il discorso in questo caso che a me mi ha impressionato ma in una maniera incredibile c'è stato un momento sono intrippato ci siamo persi l'è stato da una parte o da un'altra perché mi dicono ma non è possibile tutta sta roba c'hanno qua a new york e però new york è così c'è il c'è tutto c'è il fermento e per forza qui trovi sta roba il fermento culturale insomma eccetera eccetera immaginatevi nell'arco della vita vostra quando siete andati in studi studi d'avvocati medici da qualsiasi amici trovate sempre quelle sorte di copie a copia del quadro la serigrafia quella avete sicuramente anche se non lo sapete talmente tanta in tante immagini che voi conoscete ma magari neanche sapete chi è quell'artista per esempio a con magritte chi per fare cioè l'avete visto mille volte questa roba vedervelo la originale c'era per esempio salvador dalì c'erano gli orologi che si squagliavano per salvador dalì per dire a me non mi fa impazzire però devo dire che sono quelle robe che tu l'hai viste sempre e c'era lì che te lo trovi davanti che poi ti avvicini e mentre quelli fotografano ecco io a differenza di roberta che non so che niente irritato perché comunque così va al mondo purtroppo e io mi diverto invece a fare questo quelli fotografo a me non me ne frega una mazza mi metto così e mi comincio a guardare il quadro da vicino cioè con quelli che ci vedono proprio la caposcia mia tonda io mi metto lì quando contro me ne frega una mazza io prendo quelli che fotografano vabbè se stanno lì che fotografano aspetto se ci stanno quelli che litigano io mi metto lì e non me ne frega niente mi metto là e me lo guardo 30 ore poi quando ho finito me ne vado quindi è proprio un discorso dove manco vi prendo in considerazione ma devo dire ed è quello che ha detto roberta poi il fatto è questo ci sono delle opere d'arte che tra l'altro ecco quello che dicevo proprio all'inizio proprio testo viaggio è inutile mettersi a spiegare tutti i quadri per andate lì vedete su google internet quello che ci sta è quello che potreste vedervi perché è tanto 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 da vedere tanti artisti che conoscete ed è bello andare lì e vedessi la pitturata vedesse il particolare tu dici pensa in quel momento quando picasso stava la ha fatto questa cosa quando van gogh stava lì e c'hai quella roba e tu stai lì e sei felice perché comunque c'è una vicinanza di ciò il mondo non ha parlato è una roba un'opera d'arte umana e tu stai lì e c'hai il privilegio e la possibilità di andare a vedere guardati i particolari quindi il moma assolutamente da consigliare il google m se ci avete tempo sociale di questi abbonamenti ma per primo perché sei andato al momento del google m come veramente non so è ristorante a ristorante incredibile proprio super sfarzoso poi a lette danno tranno un kebab tu stai seduto con il tipo reti danno questo al kebab dice come il kebab porta una roba la molecolare fammi mangiare no perché è talmente esagerato per esempio il google m c'ha i picasso ok e di picasso minori chiaramente il moma c'ha i picasso quelli incredibili che conoscono tutti c'è una cosa eccezionale quindi assolutamente da vedere anzi io domani comprerò un altro biglietto compreso nel passati andrò al moma e farò solo fotobombing per tutto il tempo cioè io voglio comparire in tutte le foto di questi poverini che fanno le foto ai quadri io mi metterò di scientificamente a rubinargli tutte le foto ci ho detto siamo poi usciti dal dal moma e si è andati a fare fabio si era convinto che a new york ci fosse il negozio della carla che gli tirava la roba dietro con gli uomo a tutta gara scusa americani cato da gara esatto per andare un negozio dove ti vendevano i pedalini a 200 dollari probabilmente invece fabbio non mi trovare questa città bene ma non è caro tra ce l'hanno tutti presenti gile ino carl art quello marrone cacarella io ho detto un mazza blu perché gli americani ci hanno tutti ho detto nuova da vedere io sono entrato cessava che ne so un che c'era tipo un filo da mettere qua quando vuoi far filo dei fiori c'è un filo qua così 80 dollari ho detto vabbè me sai che non siamo non ci siamo infatti c'era dei prezzi improponibili e quindi ci siamo e quindi bye bye shopping esatto carrot gum diciamo che siamo tornati il nostro unico bottino è il king kong piccolino applicato su un paese del di io però farei vede anche attenzione se vuoi sta nel mio zale tu intanto intratteni gli ospiti qua che no non mi posso alzare che sto imputando non mi si può vedere si asceglie tra la mia striscia no 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 c'è la scena travaglio famosissima che c'è travaglio vestito in giacca e cravatta sta a far video c'era un terremoto sarsa che mutande io ormai travaglio quando lo vedo sono mai niente posso arrivare perché purtroppo non vi posso far vedere ci siamo diretti a brooklyn e particolarmente nel quartiere di guarda quello che ha scritto a uomo sulle lastre no quelli che prendi al mercato perché non è bene se mandati a bushwick particolarmente perché è famosa per essere un quartiere che una volta era totalmente disagiato e poi un po rivalutato da un collettivo che ha riempito anche di murales ne abbiamo fatto un piccolo giro piccolo perché comunque quando siamo usciti sembrava di stare a 44 magnimo per l'ispettore gallaghan magari un postaccio però i murales erano molto belli e abbiamo fatto un giro chiaramente perché non mai puoi vedere tutto il quartiere ma c'è un giro consigliato abbiamo fatto quello e ci siamo dopodiché incontrati allora io questo quartiere devo dire che si emanuele si emanuele fratello di agnelone ve lo dicevo io devo portare scarpe ci siamo visti e che concluderemo questo video con con quello che ci siamo detti e allora si sono quei classi lui mi ha raccontato un po il concetto delle fenomeno pure qua della gentrificazione che pratica dicono la classe media americana sta sparendo quindi o sei povero sei ricco non ci sta più ma infatti questo già l'avevamo avvertito ma poi non lo dobbiamo di noi si sa insomma la vita con america non avete poi le comodità quello che ti pare ma che poterci hanno portata sola però e lui diceva al concetto della della gentrifiantato roberta pili e vi alliederà per far vedere il mio souvenir rolf poze leggete per quel libro mannaggia voglio leggere mai niente ma come tosta è piccolina ma guarda guarda che robetta nel conto che c'ha 48 anni non 12 a con più in questa premessa in questa premessa guarda che bello è meraviglia piccolino metti la capito chiaramente maden china perché purtroppo americani non ne possono fare meno comunque dicevo che lui un po di veli quindi vive brooklyn però questa parte buvi burdo come uswitch e poi buswitch quando buswitch e quando insomma ho scritto un messaggio detto siamo a bruswitch e io a roma ci sta il bruswitch che tipo cosa il bullying che sa dove sta bruswitch 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 e manuale si è messa lì ha detto no è proprio un'altra cosa quindi vabbè ci siamo incontrati lui ha detto no perché sai comunque questo posto è stato gentrificato eccetera eccetera è un problema perché adesso stanno ci hanno provato pure i grandi marchi a venire perché chiaramente la gentrificazione funziona che è un posto malfamato e cominciano a pompare i prezzi perché diventa un po' sto fighetto e ci rimettono soprattutto i local perché ovviamente te viene accostato tutto quanto e vengono espulsi barra vi viene accostato tutto quanto perché poi cominciano i locali fighetti e costano a me non mi è sembrato così gentrificato nel senso perché lui mi aveva un po citato pigneto ma io a me mi sembrava più centocelle forte prenestino con tutto rispetto perché adoro centocelle adoro forte prenestino però era più più rustico rispetto a un pigneto che proprio lo vedi proprio che si mettono lì e fanno le cosette carine il posto si carino io ho fotografato un murale di mike tyson che era stupendo cioè nella fascia sua per un bruttito bello quello che ho bello e adesso bello insomma una che saranno simpatici insomma fanno una scappata da quelle parti per contarsi con lui ne è valsa la pena e poi ci aveva svelato anche un segreto cioè un segreto abbiamo capito una cosa perché qui sostanzialmente a noi anche a parte il rumore costante e tutto quanto ci sono sostanzialmente delle punze pipì pupù e mariuana ce l'ha ce l'ha svelato e la terza e la terza cosa ci sorprendeva sorprendeva particolarmente perché diciamo a questi fumano imperterriti impavidi e ci ha spiegato che è legale quindi ecco perché sentiamo l'odore delle bombe da tutte le parti sentiamo due di bombe dappertutto non è perché questi se ne pippano dalla legge ma perché ci racconta che pure prima se ne pippavano però adesso diventato magari adesso se li vedi proprio per strada insomma noi siamo rimasti colpiti al fatto che facessi contare contare comunque emmanuele ce lo siamo incontrato ritornava dal lavoro insomma non possiamo raccontare la storia della vita sua vedo il numero del telefonino qua sotto e ho chiamato e vi fate di come l'america comunque la cosa molto molto interessante che ci ha raccontato un po come funziona chiaramente nessuno qua te da niente per niente perché soprattutto gli americani quindi volete il suo benessere ma il benessere per costa e comunque lui sono 12 anni che sta qui quindi non un giorno è forte perché comunque sia riparlava romano poi a un certo punto fosse stato per lui saremmo rimasti tutta la notte perché me l'ha pure scritto dopo ha detto che bello a un certo punto ha detto sai e qui gesticolamo famo questi le guardano domani ma che ma che ma credi è il bello che poi siamo sciolti stiamo dentro sto locale tutti gli americani ne poco non hai capito alla faccia ride perché non ci fregava una mazza ed è stato molto bello comunque ci ha portato in un ristorante etiopico giusto etiope etiopico etiope etiope come roba etiope 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 non esiste penso proprio un modo dopo vado su google e cerco di etiope si ci aveva mangiato già una volta a roma e qui insomma quello che fa con le mani quindi noi veniamo dalla metro ce le siamo bruciate con la fiamma ossidrica abbiamo cominciato a mangiare buono siamo stati bene insomma è stata una bella serata e lui insomma ci siamo fatti raccontare il più o meno insomma le votazioni e le guerre medio oriente insomma abbiamo parlato un po dal punto di vista dei degli americani è chiaramente qui non è come da noi che te poi metterli a papà o non hai capito faccio come fare insomma qui esatto un po ristretto diciamo circoscritto su questi questi temi perché non sono ok quindi con noi lo senza di noi cioè nel senso o de qua o della non è che ci possa però io pensavo che te fai proprio l'odio intorno a te e poi niente poi ci ha raccontato e chiaramente la vita è dura dura qui perché 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 costa tutto perché impegnativo perché insomma il sogno americano è finito per chi veniva qua sperando di sfruttato ma è finito pure per gli americani a quanto abbiamo capito per sintetizzare nel senso che molti sono come c'è la classe media e si è allontanata da new york e quindi o se molto ricco comunque se sei abbastanza al limite per la sopravvivenza che una città comunque ti chiede molto non solo economicamente ma è proprio stancante per la frenesia con cui è organizzata e quindi insomma diciamo che ecco invidio la forza d'animo che ci deve volere per andare da un'altra parte io non lo farei però è chiaro che non è tutto rose e fiori in cui abitano certo che immagini il film capito la serie tv come tutti i posti del mondo però in particolare certo perché te ne vai in spagna te ne vai in francia te ne vai in inghilterra certo stai fuori da casa e cambiano le regole giustamente come ognuno ha le sue regole tante virtù tante cose che non vanno però il bello che lui proprio lasciandoci ma detta fa comunque noi siamo fortunati di essere comunque nati in italia essere cresciuti in italia dove c'era una cultura a 360 gradi ovviamente parlo per chi sa cerca la cultura perché se non ti cerchi e te vedi la televisione sempre non ti cerchi la cultura però ha detto è bello essere cresciuto in questo ambiente e poi la convivialità con le persone perché pure qua insomma non è una situazione che prendi o valla come stai qui è un po' una situazione molto espansa dell'individualismo e quindi capitalismo individualismo faccio questo cioè a costo del barà a costo del sapere me vende meglio di te poi c'ho la fuffa dentro di me sono fuffa land fuffa man io fuffa man comunque risulta molto più di te che magari c'hai i sentimenti e qui i sentimenti te li segnalano proprio c'è una società molto classista è una società molto spinta a tutto quanto è sempre e comunque per fai i soldi perché chiaramente devi campare quindi non è qui il discorso che dicevo sai io sono un filantropo sei filantropo se c'hai i soldi perché sanno qui lavori e fai di tutto per cercare comunque di sopravvivere e soprattutto no di vivere quindi grande forza d'animo perché poi comunque sì non è facile stare qui insomma città veramente impegnativa questa è impegnativa molto impegnativa anche le nostre ma non abbiamo il capitolo su Roma se no il video dura un'ora e tre fai sì sì per dire perché tanti anche amici che stanno anche bene con noi mi dicono ma sai sarebbe bello andare viva a new york ma proprio no ma perché è veramente troppo qui c'è tutti i popoli del mondo tutti insieme tutto tutto mesco e poi ripeto oggi sull'emperia stavamo sopra diciamo ma senti io ho fatto state e sitta un attimo senti cioè le cose i rumori però di qualsiasi cosa è una città che non è mai silenziosa mai non c'è un momento dice è silenziosa si dice tu c'hai tutte le metro tu esci fuori da tutto il circuito delle metro circuito come sempre tutto il circuito delle metro dall'in poi dice sentir silenzio però poi dall'in poi ti sparano capito quindi e non vuoi dire e roberta concluderà questa serata raccontando il ritorno alla metro ritorno alla metodo abbiamo ovviamente dovuto incontrare il predicatore della metro basta però se l'ho proprio l'ho stimato ce l'avevo addosso praticamente noi eravamo seduti lui era in piedi nel mezzo del tagone che è giunto parla ottava tra sé pensavo che stesse con l'auricolare se stessi arrabbiamo forse perché la metro non andava non so sentivo che diceva quello che paghiamo così invece si è lanciato in una filippica su contro i bianchi e contro trump che posso sintetizzare come segue una sua teoria darwiniana che è tutta da verificare per cui in giro 12 anni i bianchi spariranno perché in realtà le donne bianche vanno con lui e con quelli come lui e le donne bianche comunque non fanno i figli perché non vanno con i bianchi e quindi si estingueranno e che trampa un bugiardo e che sicuramente non porterà nulla di buono alle persone che non sono bianche perché lui è un bianco e un suprematista e mentre tutto questo succedeva siccome avevo capito quello che riuscivo a capire era questa inviettiva cosa di tenere uno sguardo basso poi invece era affascinato no ma bello poi il discorso che stavo seduto si parlava ma questo ha cominciato poi ha cominciato ma una cosa proprio alla fine poi l'urlo e vedevo le persone che alcuni di pochi da qualche dio stai esagerato io ma una cosa ha fatto un sé e io ero affascinato perché poi il bello che io ho detto guarda questo se gira e me guarda e quello era proprio il momento mio della mossa per secolo quando succedono queste cose voi non dovete parlare in inglese no sorry no i don't spin no i'm in italy tu gli devi fare oh non hai capito gli devi fare poi per pezzo in italiano e quelli impazziscono perché dicono ma questo mi ha dato viene capito se vuoi fare un discorso quindi ero talmente incuriosito stanno guardando poi ce l'ho attaccato perché era appoggiato alla fine del vagone e gli è salito ma poi con tono era salito una sorta di malcom icks però pure con poter c'era charles manson e mezzo un po di roba proprio mezza violenta perché parla si era diciamo capacità di propagarsi per cui secondo noi bianchi non saremo più in giro a rega no noi bianchi poi noi uomini bianchi perché a quanto ho capito le donne poi continuano è appunto quindi tutti quelli che mi conoscete rega dieci anni cerchiamo di fare i numeri qua perché questo ha detto che no ma è stato veramente pesante c'è tanto sia zincato è uscito si è uscito sono tutti i guardati è così so è così so posso succedono cose e così c'è stato uno sfranto quello così quello super elegantone con l'altro matto quello che fa la scena dell'altro così che cammina perché la tipo al caso bravo e capiscina ma è tutto così cioè è un mondo sembra una situazione dove ognuno c'ha vive dentro un mondo suo cioè è tipo un trip è una scena e poi però sono gentili cioè se tu vai lì sono comunque rispettosi sono tutti molto gentili e molto rispettosi però ognuno vive il trip suo ma soprattutto ronfano sulla metro che continua a scelta c'è tutta gente attorno a me ma non è il parlo di barbonio di gente senza vista di moria c'è proprio gli piace dormire sulla metro quindi sanno sempre adottata che c'è un cartello nella metro state attenti se va addormentata le vostre cose perché poi bene ma certo evidentemente il fenomeno è piuttosto cospicua se non ci ho detto siamo ritornati anche nel nostro piccolo bronx a rimastopoli e siamo arrivati domani ci aspetto un'altra ok nata ricca giornata altro culo manco ve lo dico vabbè o belle cose prosit io c'ho una sede che fesso tanto cipolla come e no perché era forte l'etio che spigneva tutta roba vegetariana ma pompava e detto questo io adesso mi rimiro il mio mio gadget il tuo king kong e belle cose ok stiamo lungo al brodo belle cose studi sempre guarda qua no ciao